Grazie a tutti Oggi vi faccio vedere una tecnica chitarristica che è decisamente presa dallo stile dello zio David, con la quale tecnica vado a comporre un riff di accordi arpeggiato con un delay a 380 millisecondi che è fondamentalmente molto molto vicino ad alcune produzioni dello zio David. Ho praticamente composto il riff portante del brano utilizzando un delay a 380 millisecondi, un delay assolutamente digitale a 380 millisecondi con un lungo feedback e anche il level molto elevato. In maniera ad avere questo grosso numero di ripetizioni. Il pezzo è molto semplice perché si compone nella strofa di tre accordi che sono il Mi, il Re suonato con un rivolto terza quinta ottava e un Do7+, e poi di nuovo il Re rivoltato. La caratteristica sta nel fatto che ho suonato tutto con un arpeggio che nella migliore tradizione gilmuriana si va a sovrapporre su se stesso, creando quindi questo tessuto ritmico molto molto particolare. Io in realtà sto dando soltanto un colpo per volta ogni corda Stoppando però in contemporanea con le dita della mano sinistra le note che vado a suonare. Con il delay Abbiamo questo terzinato che va a ribattere su se stesso, creando questo. Il risultato lo sentiamo suonato. Il risultato lo sentiamo suonato. Il risultato lo sentiamo in Il risultato lo sentiamo Il risultato lo sentito Grazie a tutti